La terra sta finendo, ma cosa intendiamo esattamente? Non si pensa mai al fatto che anche il terreno, ed in particolare quello agricolo, sia una risorsa come tutte le altre, al pari del petrolio o dei metalli, e come tali non è inesauribile. In Italia il 28% della terra coltivata è scomparsa negli ultimi decenni, portando l'estensione totale delle aree coltivate a solo i 12,8 milioni di ettari. Le conseguenze di questa perdita di terreno sono molteplici e riguardano non solo l'aspetto economico, ma anche quello ambientale. Infatti le aree agricole perse negli ultimi 7 anni garantivano ben 3,7 milioni di quintali di prodotti agricoli, per un valore stimato in quasi 7 miliardi di euro. Tuttavia la perdita di terreni agricoli coltivati comporta anche una mancata manutenzione del territorio, con il conseguente aumento del degrado e dell'incuria, come saperne di più seguendo Ingegneria Italia.